L'hub dice che dobbiamo farlo entro un'ora. Ha un picco di fertilità. Ho mangiato troppo, non so se ci riesco. Vuoi sapere dove andrò più tardi? Mariella! Vuoi sapere una cosa su di te? È come se a volte te ne andassi. Ma sta succedendo qualcosa? Se succede qualcosa... È quello che ho detto. Non sta succedendo niente. Te lo posso assicurare. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!